Allora, mister Alessandro Moschella, posso dire una cosa, la vedo abbastanza deloso, non per il risultato di 4-1, ma per l'andamento di tutta la partita, dall'abitraggio in poi. I derby sono derby, quindi tutti li vogliono vincere, è normale che alcuni episodi a volte nascono a favore, a volte a sfavore, ripeto, è andata così, va bene, ci sta. Hai qualcosa da ramaricarti? No, abbiamo fatto la nostra partita finché non ci sono stati grossi situazioni alquilidrati, siamo rimasti in partita, poi giustamente noi siamo una squadra di salvezza, quindi riceveremo magari qualche episodio, anche se l'abitra può sbagliare, ci sta. Ripeto, loro sono stati bravi, hanno mantenuto calma fino alla fine, era difficile per noi 9, più di mezz'ora dalla fine, provare qualcosa. Eppure poi sei passato in vantaggio quasi subito su una volta, o l'ordineo? Dobbiamo accettare il verdetto, pensare alla prossima partita, fortunatamente siamo salvi, diciamo, quasi salvi, quindi penso che abbiamo fatto il nostro. Dalla tua posizione era calcio di rigore, il primo, quello del pareggio? Che cosa hai visto? Un tocco di mano? Diciamo che non mi aspettavo il fisco perché non ha protestato nessuno, però ripeto, l'arbitro ci sta, nel senso, sono episodi, possono capitare a favore, a sfavore, non ripeto, loro sono stati bravi alla fine a portare a casa i punti, noi siamo quasi salvi, quindi il campionato nostro è quasi completato.